L'approccio multidisciplinare del paziente reumatologico e le diverse figure specialistiche coinvolte nella cura e nella diagnosi di tali patologie sono stati i temi affrontati nel corso di un importante convegno di reumatologia che si è tenuto a Caserta, patrocinato dall'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano, ma fortemente voluto, ormai alla sesta edizione, dal responsabile scientifico dell'evento formativo, il dottor Giovanni Italiano, reumatologo dell'unità operativa di medicina interna dell'azienda ospedaliere di Caserta, che abbiamo sentito a margine dei lavori. Allora, dottor Italiano, quali sono le novità di quest'anno, di questo convegno e soprattutto proviamo a fare un bilancio delle altre edizioni. Bene, noi siamo arrivati alla sesta edizione delle giornate reumatologiche casertane. Ovviamente c'è stato un percorso negli anni, abbiamo iniziato con l'osteoporosi e poi in seguito abbiamo focalizzato l'attenzione sul percorso diagnostico, sulla profilazione del paziente, qual era il paziente da trattare, da individuare, da trattare. Successivamente abbiamo amplificato il problema dei percorsi dei PDTA. Infine abbiamo stressato il concetto della cura al letto del paziente. Oggi ci parliamo di multidisciplinarietà. Multidisciplinarietà perché le patologie reumatologiche sono delle patologie che coinvolgano, oltre alle articolazioni, anche diversi organi apparati. Polmone, rene, cuore, sistema nervoso centrale, vasi e pertanto più figure specialistiche devono avere un background forte, fortemente orientato verso le patologie reumatiche al fine di creare una diagnosi precoce, un percorso condiviso multispecialistico e ovviamente un trattamento terapeutico adeguato. Possiamo essere ottimisti per i pazienti reumatologici? Dobbiamo essere ottimisti perché i giovani reumatologi sono veramente molto bravi, molto preparati, sono oramai in grado di intercettare rapidamente questi pazienti, hanno conoscenze sempre più approfondite della fisiopatologia delle malattie e pertanto sono in grado di intervenire anche precocemente dal punto di vista terapeutico. Dottore, quali sono i segni dai quali il paziente deve preoccuparsi e magari andare subito dal reumatologo? Guardi, molto molto elementalmente i segni della infiammazione, c'è un'articolazione gonfia, arrossata, calda, che ha una limitazione funzionale. Banalmente un soggetto giovane che si sveglia la mattina con le mani intorpidite, che non riesce ad aprire una bottiglia d'acqua, che non riesce a fare il caffè e ha queste difficoltà che si protraggono per più di un'ora al mattino, sono dei segni, cosiddette bandierine rosse, da tenere immediatamente presente e che vanno ovviamente poi circostanziate tanto dal medico di base e poi dal reumatologo. È stata poi la volta della dottoressa Rosa Agampora, reumatologa dell'ASL Napoli 3 Sud. Dottoressa, quali sono le novità in questo convegno e soprattutto quali sono le speranze? Dunque, prima di tutto dobbiamo dire che questo incontro, grazie al dottore italiano, ha permesso non solo di mettere ulteriormente in evidenza l'evoluzione dell'approccio del paziente reumatico di tutte le innovazioni, non solo di tipo terapeutico, ma anche un approccio di multidisciplinarità nelle malattie reumatiche e l'importanza dell'integrazione tra le diverse specialità per favorire una diagnosi precoce, con un intervento precoce e terapeutico che possono ridurre sicuramente l'evoluzione delle patologie e quindi il sorgere delle disabilità che hanno un grande impatto economico sanitario e non solo, anche un notevole impatto economico di tipo sociale. Quindi la conoscenza della terapia, la conoscenza dei meccanismi patogenetici, l'integrazione tra le diverse specialità contribuisce sicuramente a dare una grossa speranza al paziente reumatico che si può allontanare facilmente dall'evoluzione delle disabilità. Infine abbiamo anche affrontato le continue emergenze che si presentano in reumatologia con il dottor Francesco Pardo della medicina d'urgenza dell'azienda ospedaliera di Caserta. Dottore, qual è il ruolo dell'urgentista nella patologia reumatologica? Il convegno che ha organizzato il dottore italiano in queste giornate è di utilità per noi medici dell'urgenza e notevolmente utile in quanto ci permette di valutare patologie reumatologiche che però possono creare delle complicanze di notevole importanza e di utilità per noi urgentisti per capire meglio sia la diagnosi che spesso si confonde con altre malattie come una polmonite, come un'insufficienza renale acuta, sia le attività terapeutiche che noi possiamo mettere in atto e quindi coinvolgere anche altri personale, medico, insomma, quale specialista reumatologo nello stesso tempo. Quali sono le emergenze particolari che vi arrivano? In genere sono delle polmoniti, sono delle insufficienze renali acute di pazienti che semmai non avevano conoscenza di problematiche reumatologiche e per cui bisogna studiare le motivazioni di queste complicanze e nell'ambito dello studio, insomma, può capitare di ritrovarci di fronte a pazienti che erano da etichettare come pazienti reumatologici. Diciamo che alla fine si riesce sempre in qualche modo a risolverle? Diciamo nì, in un certo modo, perché in alcune condizioni, specialmente quelle molto più gravi, c'è la possibilità, insomma, che il paziente non vada bene e in particolar modo sono le polmoniti che sono quelle là con una grave insufficienza respiratoria in cui poi il rianimatore deve avere la sua parte. Da Caserta è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it